Musica Sono sicura che è successo anche a voi di entrare in un negozio e di avere questo intenso colpo di fulmine Di innamorarvi immediatamente di un vestito Un vestito che comunque non dovevate comprare Perché in quel giorno avevamo deciso che non avremmo fatto shopping Ma siete comunque entrati in quel negozio Quindi non capisco che cosa vi aspettavate Di uscire senza comprare niente illuse Ma una volta tornate a casa con il vostro colpo di fulmine Cosa avete fatto? L'avete messo nell'armadio e lasciato lì per mesi e per mesi Perché? Perché lo facciamo? Cioè in realtà io lo so perché lo faccio Perché la mattina apro l'armadio e scegno sempre lo stesso peggio di jeans Perché l'ho già messo mille volte e so come abbinarlo E non ho tempo o voglia di preoccuparmi di creare nuovi outfit Quindi ora capisco questi jobs Quindi oggi mi metterò di impegno e penserò a 5 look per abbinare il mio colpo di fulmine Ovvero una gonna bianca può neri di Oniclo Iniziamo con il primo outfit Questa cintura vintage è bellissima Ho un debole per lo scamosciato E queste applicazioni a forma di cuore e stelle mi hanno riportata subito agli anni 90 Quando piangevo perché non potevo essere Sailor Venus Adoro questo modello di scarpe Ma sono scamosciato anche queste Come borsa ho scelto una cartella vintage che può essere portata anche utilizzando la tracolla Almeno questa non è scamosciata Ho scelto una cintura marrone con una fibbia chiara per stringere la vita Dato che il maglione è piuttosto spesso Come scarpe abbiamo degli stivaletti scamosciati Oh no ancora E una delle mie borse preferite La mini borsa di accessorize Totalmente inutile perché non può contenere il mio portafoglio Mi sono subito innamorato Del colore di questa maglia a coste E l'ho comprata anche a se dei due tagli più grandi Aggiungiamo un basco giallo Delle ballerine scamosciate Oh mio dio ma è davvero un'ossessione la mia E uno zainetto coordinato con il cappello Grazie a tutti Questa t-shirt è dell'ultimo concerto dei Franz Ferdinand Invece la cintura è una delle poche che ha davvero della mia taglia Quindi la uso tantissimo, soprattutto d'estate Per i capelli uso un elastico vintage che era di mia nonna Le scarpe ovviamente sono delle Dr. Martens Perché tutti quanti dovremo avere un paio di Dr. Martens nell'armadio Nero, colore comfort per eccellenza Una delle mie maglie preferite Calzini rubati a Michele Bans e distrutte che vengono sostituite con un paio identico ogni due anni circa Frangeridge, per cui prima o poi perderò completamente le speranze Che cerchiamo di salvare con il mio basco nero comprato a Tokyo Più lo zaino che Michele mi ha regalato per il mio ultimo compleanno Che amo tantissimo, il colore è perfetto Ed ecco i cinque outfit che ho pensato per poter abbinare al meglio il mio colpo di fulmine E una gonna bianca può nere di un iglo Però di poterle indossare di più adesso che ho questi spunti Voi invece come le abbinereste? Qual è il vostro look preferito? E qual è il vostro colpo di fulmine abbandonato nell'armadio? Scrivetemelo nei commenti Ciao!